ciao a tutti ragazzi oggi vediamo come impostare le nostre armi e iniziamo anche a parlare di armi pesanti e andiamo subito a vedere come fare quindi torniamo alla nostra nostro content browser abbiamo già visto tutto nei capitoli precedenti ma facciamo un velocissimo riepilogo per chi non li avesse seguiti sarà poco dettagliato andrò molto veloce quindi io consiglio comunque di tornare magari qualche passo indietro se avete qualche dubbio e riguardarvi appunto le puntate precedenti abbiamo costruito una nostra cartella blueprint a quale abbiamo una cartella blueprint weapons con le nostre armi abbiamo costruito un set di armi base prese da il modello l'aera direttamente e abbiamo estrapolato tutti questi dati che ci servono per l'impostazione delle nostre armi e lo abbiamo fatto prendendo nella maggior parte da da questa cartella che si trova dentro plugins shooter content weapons e qui abbiamo appunto le nostre tre armi di base oggi utilizzeremo anche la quarta che appunto dei dati che ci servono per il lanciarazzi e per il lanciagranate e per il resto dei dati che non sono stati presi da qui sono stati presi direttamente dai punti in cui ci vengono richiesti per esempio se apriamo questo data asset e come vediamo abbiamo lì di pistols abbiamo tanti dati che ci vengono richiesti e quelli che dobbiamo andare a cambiare se non li troviamo appunto nelle cartelle base che abbiamo visto qui in fondo a plugins e li dobbiamo andare a cercare all'interno appunto delle altre cartelle dello shooter core allora come abbiamo visto per personalizzare un'arma una volta che abbiamo la nostra base come dicevo io ne ho create tre le ho già un pochino personalizzate consiglio di farlo anche a voi prima di creare tutto il resto delle altre armi vi create la prima e poi sulla base di questa appunto se vogliamo creare un altro fucile d'assalto per dire possiamo semplicemente prendere questa base andare a cambiare quelle piccole cose che lo rendono differente per esempio il danno la portata aggiungere un mirino e tutte queste cose però appunto conviene non usare magari questa base per fare la pistola perché sennò ci conviene andare a cambiare poi tutto quanto quello che non non vi serve potete anche ovviamente non copiarlo in questo caso adesso io farò una nuova base per un fucile per un lanciarazzi quindi mi serviranno al momento tutti i dati ma se volessi fare un altro shotgun per dire potrei magari evitare di copiare il danno nel caso il danno fosse identico al fucile di base e mi basterebbe quindi semplicemente inserire nei miei dati che vengono richiesti il blueprint base di quello che ci serve ok quindi andiamo avanti abbiamo creato una nuova cartella dentro sempre la nostra my shooter content blueprint blueprint weapons abbiamo creato questa heavy weapons che conterrà tutte le nostre armi pesanti all'interno possiamo fare per esempio un lanciagranate grenade launcher e qui conterrà la base appunto del nostro lanciagranate poi volendo possiamo suddividere in ulteriori cartaglie se abbiamo bisogno di altre basi la base la facciamo direttamente sul nostro shotgun quindi copiamo tutto non creiamo una base vera e propria per il nostro lanciagranate utilizzeremo questa base e poi se volessimo creare altri lanciagranate utilizzeremo direttamente la base del primo lanciagranate quindi possiamo duplicare tutto selezioniamo il prefisso 2 in modo da avere soli dati che ci servono li selezioniamo tutti e li trasferiamo nella nostra nuova cartella andiamo nella cartella grenade launcher rinominiamo tutti i nostri blueprint lasciando ovviamente i dati principali in modo da avere un riferimento quando ci vengono richiesti perchè se no ce li perderemo perchè iniziano ad essere un po' tanti quindi magari al posto di shotgun base possiamo semplicemente mettere grenade launcher e poi magari se ne creiamo altri appunto possiamo ricambiare i nomi anche in questo e dargli un nome magari un po' più specifico copiamo e andiamo a cambiare per tutti i dati solo la parte dove c'è scritto shotgun base 2 e ci incolliamo grenade launcher adesso che li abbiamo rinominati tutti controllate di avere tutti questi file sono 16 non li utilizzeremo tutti per quest'arma probabilmente però teneteli come base nel caso vi servissero poi per altre armi in modo da attingere da qui oppure duplicarli i file che probabilmente non ci servono e che probabilmente non troverete all'interno della vostra cartella se avete seguito i tutorial precedenti potrebbero essere il cm questo vector curve e il ga ads che li abbiamo aggiunti nella puntata in cui abbiamo parlato del fucile da cecchino perchè si occupano appunto della nostra ottica quindi questi probabilmente adesso non li useremo ma li lasciamo appunto come base e vediamo come impostare gli altri allora prima cosa che voglio fare anche se dovrei farla dopo per farvi capire bene da dove devo prenderla e cosa ne devo fare è cambiare uno di questi componenti però lo faccio subito perchè è abbastanza importante per determinare appunto il raggio di fuoco del nostro lanciagranate il file in questione che dobbiamo sostituire è questo weapon fire questo determina praticamente come il fucile deve sparare e contiene anche l'animazione appunto per la sezione dell'arma da fuoco e altri elementi e noi lo dobbiamo prendere però noi dobbiamo prendere uno diverso che si occupa appunto di poter aggiungere dei proiettili al quale poi aggiungeremo la nostra granata in poche parole quindi lo facciamo subito vi faccio vedere come fare poi vi spiegherò di nuovo meglio quando ci arriviamo vi farò appunto ripuntualizzare questa cosa quindi questo lo possiamo tranquillamente cancellare anzi prima mi salvo il nome quindi ctrl c lo copio lo cancello vado nella cartella plugins shooter core content weapons e andiamo nella cartella net shooter proto ok di questa cartella ci serve il weapon net shooter che è praticamente il fire che abbiamo cancellato prima però ha dei dati in più che ci possono servire i dati in più sono la possibilità appunto di cambiare il punto di uscita del fuoco quindi metterlo magari sulla canna del fucile e in questo momento sparerebbe dal centro dello schermo e aggiungere il nostro proiettile che in questo momento è settato come net shooter che poi andremo a vedere perché è molto interessante che ha questo proiettile qua e potremo utilizzarlo per fare una copia per dire del nostro lanciagranate fare una versione differente comunque al momento andiamo a modificare questo net shooter quindi non lo copiamo e non ci serve direttamente ma lo modifichiamo e ne creiamo un figlio quello che ci serve è la possibilità intanto di poter cambiare l'arma il proiettile dell'arma a nostro piacimento quindi in questo caso c'è il net shooter ma noi lo promuoviamo ad una variabile lo chiamiamo proiettile salviamo e in questo caso lui ha riaggiunto il net shooter ma noi poi lo andremo a cambiare quindi per il momento non preoccupatevi lasciatelo così perché questo è il file generale di Lyra quindi non andiamo a toccare troppo tutti i file se no poi non ci funzionano le armi quindi lo lasciamo così possiamo mettere anche instance editable e expose on spawn salviamo di nuovo andiamo a creare diciamo un offset per regolare la nostra uscita di fuoco dall'arma in questo momento c'è solo un offset frontale quindi possiamo dire al fuoco di uscire più o avanti più o meno avanti o indietro rispetto a quello che ci serve ma noi ci serve anche spostarlo lateralmente e in altezza perché appunto come vedremo sparerà dal centro dello schermo quindi dovremmo andarlo un po' ad aggiustare quindi andiamo ad aggiungere degli altri vettori simili a questo quindi getRyVector andiamo a ricreare la stessa situazione che c'è qui quindi possiamo tranquillamente un attimo sganciare questo andare a duplicare due volte questo questo possiamo cambiarlo in questo possiamo cambiarlo in flot single precision duplicare di nuovo e andare a cambiare di nuovo questo dato poi entriamo come vediamo nella parte sotto scusate ma qua è di nuovo da ricambiare ok ok quindi abbiamo replicato diciamo quello che c'è sotto e quello che c'è sotto va a questo punto collegato alla parte sopra che va collegata alla parte sopra che esce nell'output ok questo è quello che dobbiamo fare adesso qui è già inserita una variabile che avevo probabilmente inserito io quindi forse non la trovate e in ogni caso andiamo a ricreare le altre due variabili se non la trovate create anche questa variabile qui quindi questa variabile la promuoviamo e la chiamiamo write offset e questa la promuoviamo e la chiamiamo up offset ok le possiamo aggistare qui di lato quindi possiamo portare per esempio write un po' più su l'app un po' più su in modo che quando poi le vediamo abbiamo dall'altra parte le abbiamo tutte incolonnate possiamo andare anche queste ad aggiungerle come instanze di table e expose on spawn salviamo e qui abbiamo creato praticamente l'offset che ci permette di modificare appunto la posizione dell'uscita del proiettile e tutto questo adesso andiamo a vedere come impostarlo direttamente quindi questo lo possiamo chiudere quindi di questo file ne possiamo creare un figlio lo spostiamo nella nostra cartella grenade launcher e qui praticamente abbiamo il nostro fire lo rinominiamo possiamo chiamarlo grenade launcher ok ora che abbiamo tutti i file possiamo finalmente andare ad impostare il nostro fucile o meglio il nostro lanciarazzi quindi apriamo la mesh andiamo su viewport andiamo su skeletal mesh queste le possiamo un attimo eliminare che non servono andiamo a cercare il nostro lanciarazzi vediamo se lo troviamo come grenade launcher eccolo qui grenade launcher A andiamo a impostare i nostri colori di base lo salviamo lo riapriamo e abbiamo il nostro lanciagranate ok possiamo volendo anche andare ad impostare qui di lato alcuni dettagli per iniziare appunto ad impostare il fucile questi sono effetti che io al momento lascio così vado però a cambiare l'uscita del proiettile quello il proiettile che viene messo quando spariamo quindi invece di far uscire il proiettile dello shotgun andiamo appunto a cercare vediamo così possiamo utilizzare questo qua che è il suo proiettile ok quindi vedremo uscire poi questo proiettile dal lato del fucile quando faremo fuoco qui per il momento io non andrei a cambiare altro quindi possiamo chiudere e possiamo iniziare a importare la nostra arma in gioco quindi andiamo su pick up data weapon pick up data lo apriamo e iniziamo ad inserire tutti i nostri dati che servono quindi possiamo copiare di nuovo questo nome che ci servirà adesso per un po' di volte andare ad inserirlo qui all'interno come vedete non abbiamo la la schematic mesh dobbiamo andarla a creare quindi dobbiamo tornare indietro sulle nostre armi andare a cercare appunto il launcher A in questo caso stiamo usando questa se avete un'altra arma ovviamente andate sulla vostra arma possiamo aprire la nostra scheletta al mesh cliccare su make static mesh mettere il prefisso static mesh e aggiungere il nostro grenade launcher ok qui possiamo anche chiudere possiamo andare a prendere la nostra static mesh che abbiamo creato e inserirla all'interno delle mesh del launcher possiamo prenderla cliccandoci sopra e inserirla poi possiamo andare a cambiare l'ID aprire l'ID possiamo chiudere anche questa che per il momento non andiamo a toccare i suoni però se volete questa sezione se avete dei suoni già particolari che vi interessano noi nel pacchetto che abbiamo scaricato all'inizio sul marketplace dovrebbero già esserci dei suoni però al momento dovreste stare a cercarli quindi viene un po' lungo il video se volete farvelo con calma potete anche aggiungere dei suoni differenti per ogni fucile in questo caso quindi andiamo a chiudere andiamo ad aprire l'ID e qui cambiamo tutti i dati che ci vengono richiesti allora qua lo dobbiamo cercare con un altro nome questo si chiama launcher A qui possiamo usare direttamente anche il reticolo dello shotgun perché ci viene bene altrimenti dovremmo crearne uno o usare quello delle pistole o del fucile d'assalto che sono molto più precisi in realtà quello che ci serve è appunto avere un reticolo largo come prevede appunto lo shotgun quindi questo possiamo anche evitare di cambiarlo e come dicevo se volete possiamo anche andare in realtà a cancellare adesso non lo faccio poi li ricontrollerò bene fatelo anche voi però in realtà sono due file che non ci servono perché non andiamo adesso ad impostare invece andiamo ad impostare sempre dentro l'ID la quantità di fucili che può ottenere il nostro fucile quindi questa qui in basso è la quantità che abbiamo a disposizione totale prima di dover cercare delle munizioni quindi possiamo mettere che so sei proiettili anzi essendo un lanciagranate non un lanciaraggio possiamo anche metterne un po' di più quindi dodici proiettili possiamo dire che in canna ne può contenere solo quattro quindi ha tre ricariche e quando inizia il gioco il fucile sarà già carico di quattro proiettili volendo potete anche sostituire questi due quindi mettere anche otto oppure otto qui e cambierà appunto semplicemente in questo caso l'inizio poi una volta che avrà scaricato tutti i proiettili tornerà ad avere il numero che mettete nella casella qui in basso qui possiamo salvare e andare ad aprire il nostro Wid Launcher lo apriamo questo lo possiamo anche chiudere perché è stato già impostato nel Wid Launcher andiamo ad aggiungere allo spawn dell'arma quindi se qui non lo cambiate spawnerà l'arma che verrà scritta qui in questo caso uno shotgun però ne vogliamo lanciagranate quindi selezioniamo lanciagranate e andiamo a cambiare anche questo data asset questo weapon instance e li andiamo ad aprire entrambi quindi weapon instance e data asset in questo caso qui abbiamo finito quindi possiamo anche chiuderlo possiamo occuparci subito del weapon instance perchè nel data asset dovremo andare a modificare un bel po' di cose quindi questo credo che sia più rapido e qua chiede quanti proiettili abbiamo per cartuccia come sei quantitato qui un'ultimo questo è un'ultima qui un'ultima non ci facciamo che questo è un'ultima sicuro è un'ultima Grazie.